benvenuti a un nuovo video e mettetemi comodi sulle grandi montagne ci sono spesso alpinisti noti e più o meno famosi c'è chi sale chi scende ma anche chi non torna più indietro e scompare nel nulla in questo video vedremo a chi è successo una cosa del genere alpinisti poi ritrovati o riportati a valle non sono inclusi in questo elenco iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime avventure durante la spedizione george mallory e il suo compagno di scalata andrew irvine sono scomparsi sulla cresta nord est dell'everest nel 99 l'alpinista coran hanker ha localizzato il corpo di mallory hanker era membro di una squadra di ricerca dei resti dello scalatore britannico qui puoi vedere l'area in cui sono scomparsi e il punto della scoperta quasi un secolo dopo durate un tentativo di ascesa che avrebbe resa la prima donna americana a raggiungere la vita dell'everest è precipitata oltre il bordo del canale dell'orbane sulla cresta nord il compagno di squadra della spedizione jinwick wire e marty hoy erano appulaiati su un pedio roccioso di 45 gradi trasportando l'attrezzatura per stabilire il campo sai con l'aspettativa di dirigersi verso la vetta al giorno successivo way si appoggiò allo schienale e una fibbia della sua imbragatura si aprì liberandola dalla corda fissa e facendola precipitare giù per oltre 1800 metri sono scomparsi sulla cresta nord est nel 92 quando una spedizione congiunta giapponese kazaka attraverso i pinnacoli trovarono un colpo oltre il secondo pinnacolo a una quota di 8.200 metri sul lato rombo book della cresta prodanova è stato il primo vulgar a scalare l'everest percorrendo la via più difficile la cresta occidentale era solo e senza ossigeno supplementare prodanova è stato anche la prima persona scalare l'everest ad aprile quando le condizioni meteorologiche sono generalmente troppo brutte per una spedizione salendo la vetta alle ore 18 ora locale è dovuto scendere durante la notte e poco dopo si è perso il pomeriggio successivo riferì via radio di aver perso anche i guanti poi non si seppe più nulla il suo corpo non è mai stato trovato il suo corpo rimase a lungo vicino al balcone a 8.500 metri di altitudine poi dopo qualche anno è stato spazzato via dal vento e dalla neve secondo altri però il suo corpo è ancora visibile e non lontano dal luogo originario di dove è morto i loro corpi caduti lungo la parete sud est vicino alla vetta sono ancora oggi lì da qualche parte in mezzo alle rocce i coniugi arsentiai moriron sulla rotta nord oltre il campo 6 a un'altitudine di circa 8.300 metri il corpo di francis è stato visibile agli alpinisti per nove anni dalla sua morte avvenuta il 24 maggio del 98 fino al maggio del 2007 proprio quel 23 maggio 2007 uno scalatore è stato in grado di localizzare il corpo di arsentiev e dopo un breve saluto l'ha lasciata cadere in un punto più basso rimuovendo il corpo dalla vista degli altri scalatori sergei era 200 metri sotto francis apparentemente morto per una caduta mentre tentava di salvare la sua moglie anche lui è scomparso sulla via nord mentre usava lo snowboard dopo che le condizioni meteorologiche hanno iniziato a cambiare gli sherpa hanno esortato si fredde a non scendere con la tavola si fredde ha ignorato i loro avvertimenti e dopo un'ora di riposo ha iniziato a scendere lungo il canale dell'orbane i suoi compagni sherpa lo perdevano di vista periodicamente al colle nord a circa 1300 metri sotto il campo 3 entrambi gli sherpa avevano riferito di aver visto l'immagine in lontananza di un uomo alzarsi in piedi quindi scivolare silenziosamente giù per la montagna giunti al punto dell'avvistamento però la neve non aveva segni di discese il corpo di si freddi non è mai stato ritrovato stefano ha raggiunto la vetta del k2 durante la fase più delicata della discesa c'è del passo ad un altro membro della spedizione che era stato calpito da un principio di congelamento ma prima di arrivare al campo 4 stefano fu sorpreso da un'improvvisa tempesta da allora stefano è disperso sul k2 sperone abruzzi durante la discesa della vetta del k2 alcuni alpinisti hanno incontrato due giovani scalatori shaffer e lacroix che stavano salendo alla fine questi due alpinisti sono riusciti a raggiungere la vetta del k2 ma durante la discesa si sono separati a una quota di circa 8.200 metri shafter è riuscito a tornare sano e salvo ma lacroix non è stato più visto e nessuno sa cosa sia successo nella spedizione americana del k2 del 39 pasan kikuli agì come capo scerpa wolf era in alto sul k2 al campo 7 a una quota di 7.500 metri era il 28 luglio il capo della spedizione fritz wiesner chiesa due scerpa al campo base di fare un altro tentativo di salvataggio passan kikuli passan kitar e pinso hanno raggiunto wolf a mezzogiorno del 29 luglio wolf aveva trascorso 38 giorni ininterrottamente sopra i 6.700 metri era vivo ma in condizioni terribili niente acqua o cibo caldo completamente appatico e poiché era intrappolato nella sua tenda coperto di urina e feci si rifiutò di scendere dicendo agli scerpa di tornare il giorno successivo quando sarebbe stato pronto al campo 6 di scerpa furono coinvolti una tempesta ma il 31 luglio i tre tentarono di nuovo il suo salvataggio loro e non furono mai più visti vivi furono le prime persone a morire salendo sul k2 rodrigo vivanco è scomparso sopra il campo 4 a una quota di 7.500 metri ancora oggi del suo corpo non vi è traccia il 20 maggio 2013 alle ore 18 eros ha scalato con successo la vetta del cance janga insieme al suo compagno di cordata il 26enne peter kiss durante la discesa eros ha riferito di sentirsi debole e ha mostrato segni di esaurimento rimanendo indietro rispetto al resto degli scalatori ha trascorso la notte presumibilmente da solo nella sud zona della morte ma al mattino è stato raggiunto da kiss che è risalito per aiutare il suo compagno di cordata a subito dopo kiss cade in un crepaccio e scomparve le condizioni di eros sono quindi peggiorate rapidamente riportando problemi alla vista anche lui lungo la strada è scomparso e non è stato mai più visto durante la scalata del cance janga la 49enne ruccheviz è stata vista per l'ultima volta viva dal climber messicano carlos carsoglio si trovava a riparo in un'alta quota sulla parete nord ovest durante la sua tentata salita di quello che sarebbe stato il suo nono 8000 era fisicamente indebolita e decise di non scendere carsoglio disse che non aveva la forza mentale per convincerla a scendere perché anche lui era indebolito di lei non si seppe più nulla scomparve vicino alla vetta della sua 14esima cimai malayana il cance janga il 5 ottobre 1995 col fotografo pierre roiet e il suo scherpa ricca il 27 aprile dell'ottanta jager è stato visto per l'ultima volta 8.200 metri di altitudine durante un tentativo di ascesa del lozze char un sussidiario del lozze si presume sia morto in una caduta il manasdru è conosciuto come un affidabile 8000 eppure questi tre alpinisti sono scomparsi nel nulla si si presume che una valanga li abbia travolti e poi sepolti colli asting e mammeri furono i primi alpinisti a tentare il nanga parbat mammeri e i due gurka ragodire tapa e go man singh cadero e furono uccisi da una valanga durante la ricognizione della parete racchiotto i loro corpi non sono mai stati ritrovati i due alpinisti volevano scalare lo sperone mammeri per passare alla storia alpinistica simone moro che ha effettuato la prima invernale del nanga parbat nel 2016 definiva quella salita come una roulette russa mentre mesner addirittura suicida nel pomeriggio del 24 febbraio nardi e tom erano una quota di 6.300 metri hanno chiamato il campo base per dire che avrebbero cercato di scendere fino al campo 3 a una quota di 5.700 metri forse per le troppe valanghe in atto fu l'ultimo contatto che qualcuno avesse mai avuto con i due uomini parche gli altri membri della sua squadra sudcoreana sono scomparsi dopo le loro ultime comunicazioni il 18 ottobre del 2011 mentre tentavano una nuova rotta sulla napurna hanno deciso di interrompere la salita a circa 6.400 metri a causa di una forte caduta di massi e sono scomparsi durante la discesa nonostante un'operazione di salvataggio pericoloso e audace per ritrovare gli scalatori dispersi non sono mai stati ritrovati segni di park shin o gang bregar che era l'alpinista più esperto della spedizione ha cercato di salire in solitare una nuova via tuttavia il tempo è peggiorato e si è bloccato da un lontano dalla vetta della montagna il resto della squadra ha cercato di monitorarlo tuttavia dopo sei giorni di continue nevicate hanno dovuto interrompere la missione di soccorso drago bregar aveva 24 anni il suo corpo non è mai stato ritrovato kim è diventato la prima persona disabile a scalare tutte le 14 montagne più alte del mondo tuttavia è caduto in crepaccio durante la discesa del broad peak e si presume sia morto lì il suo corpo è scomparso pozzorgi con keivan e jarai hanno completato con successo una nuova via sulla parete sud ovest del broad peak su cui stavano lavorando da 2009 alla discesa si è rivelata più complicata del previsto dopo un'infruttuosa ricerca non furono mai più visti sono scomparsi il 6 marzo 2013 mentre scendevano dal broad peak ritenuti dispersi furono dichiarati morti due giorni dopo pietro è stato dichiarato disperso il 5 maggio 2018 mentre scalava lo shijia pang ma la ricerca per lui è stata interrotta al 16 maggio potrebbe essere caduto in un crepaccio mentre andava in cima il suo corpo da allora è scomparso probabilmente sono stati colpiti da una valanga e sono scomparsi ad una quota di circa 7500 metri un saluto e al prossimo video